Nel mentre che faceva a scuola guida, una ragazzetta sulla 500, appena che ha finito... Un anno circa. Tre anni. Tre anni, sbagliato. Tre anni. E la Paola che era appena nata. Noi facciamo tutto il viaggio, arriviamo su a San Marino, facciamo la strada di San Marino, ma è un po' tortuosa. Allora non c'erano molte macchine che ti fermavano. Però proprio lì, all'entrata di San Marino antico, nel centro storico, c'era un pullman che ostruiva tutta la strada. Da un pullman targato Roma, con l'autista che stava levando le valigie, perché lì vicino c'è un hotel. E le caricava su un caretino e le avrebbero portate all'hotel. Allora io ho aspettato qualche minuto, poi sono sceso e gli ho chiesto se per favore mi faceva passare, che io stavo nel centro storico. E lui non si è dato minimamente come se non avessi parlato, ha continuato a fare il suo lavoro che stava facendo, quello di levare le valigie. Allora io ho aspettato qualche altro minuto, poi insomma il sangue mi cominciava a bollire, sono sceso e gli ho fatto insomma, lo vuoi spostare questo pullman o non lo vuoi spostare? E lui mi ha, non so, mi ha setto, non mi ha fatto niente. Lui ho preso, gli ho dato un pullman. No, l'ho preso. L'ho preso. L'ho sposto quando mi pare. Ecco, adesso la signora ha precisato, insomma rimane il fatto che gli ho dato un pugno e l'ho speso per terra. Come si è rialzato, perché non l'avevo, avevo te che sei fai pugilato, l'avevo preso qua, capito? E allora cosa succede? Che lui si rialza e la prima cosa che fa va a spostare il pullman, va a spostarlo subito. Allora, eravamo lì che stavo per partire, arriva il vigile e mi fa, ma dico, cosa vuoi? Io lo conoscevo anche il vigile, perché io avevo un negozio 50 metri più avanti. Mi fa, cosa vuoi? Ma diciamo, voglio chiedere all'autista se ti vuol denunciare. Come se mi vuol denunciare? Dico, sono qui che è mezz'ora che mi ha bloccato con due bambini. Dico, non mi vuol far passare. E te gli chiedi se mi vuol denunciare? Dico, questo ad ogni modo gli ha detto, no, no, non faccio niente, adesso parto, vado via. E così è finita l'avventura. Allora, io adesso ti faccio uno scoop. Ti do uno scoop che puoi mandare in onda anche su televisioni importanti. Allora, io sono il più vecchio giocatore di Coppa Davis, che è sceso in campo. Io penso di esserlo ancora, però lo sono stato sicuro, 5 anni fa, in Egitto. Io sono sceso in campo in Egitto, contro l'Egitto, il doppio. E ho battuto questo record che era di un Kenyon. L'allenatore personale... Ma stai pure sui Guinness dei primati, mi sembra. Come? Stai pure sui Guinness dei primati. Dovrei essere, non lo so se l'ho venuto a me, però io ho questa curiosità, ce l'ho oggi. Questo record ce l'ho, l'ho avuto perlomeno. Quando ero lì, che avevo battuto questo record, ero sceso in campo, dopo io mi sono stirato, non ho potuto finire la partita. Però, quando il giorno dopo si è saputo di questo record, è venuto l'allenatore personale del fratello di Mubarak, del presidente egiziano, dove ha detto, ah sì, lei è quello che ha battuto, parlava l'italiano, e lei dice, lei è quello che ha battuto il record del più... e dico, sono io, e lo sa che può darsi che, può darsi, non si sa, ma può darsi che il fratello del presidente Mubarak, siccome è un appassionato di tennis, può darsi che le batta il record, mi ha detto. Questo è la verità. E ha visto questo alterco che è avvenuto tra me e l'autista, e ha detto, sai che te sei da pugni, non ti facevo. Ma tu hai fatto incontri di Mucilato, no? No, io ho fatto due incontri quando ero ragazzino, e con un mio amico, abbiamo fatto degli incontri, c'era la mania del Mucilato, ho fatto due incontri, ma così a livello molto... amatoriali. Ancora di più di amatoriali. Due incontri di cui uno vinto e uno perso, perché mi sono ritirato perché... Tu che sei un pugile professionista, quando, se non... ogliono bene le corde del ring, cosa fai? Se tu vai dietro, ti rimane libido. Io, quel giorno, a forza di andare indietro, perché sai, quando fai il pugilato vai contro le corde del ring, che è una cosa normale, avevo la schiena tutta a testa, testa, ma cosa hai fatto nella schiena? Mi ero pestato tutta la schiena, le braccia, e allora ho smesso, dicono, no, no, basta, ti hai vinto, a Santino, Santino contro Santino. Senti, ma racconta a Simone quando ha fatto braccio di ferro, perché quello è stato forte. Io sono stato campione di braccio di ferro, di immagini, di immagini, tutta la nostra famiglia è stata campione di San Marino, La prima volta era il 3 settembre di una ventina d'anni fa, circa, no, forse di più, no, di più 25 anni fa, e la facevano il 3 settembre, che è la festa nazionale di San Marino, sulla porta del paese, proprio all'inizio lì. Allora ci sono state le eliminatorie, no, io, si andava per peso, col peso, no, fino ai 100 chili, dai 80 chili, e c'è le varie categorie, come nel pugilato. Io loro ero 99 chili, mi ricordo come adesso, 99 chili non sono rientrato, fortunatamente, oltre i 100, dopo oltre i 100, ci sono delle bestie, che sono grandi con questo coro, perché sono come questo... Eh, ma pure i 99 chili, sta credenza, no? Però io, insomma, vado in finale, per farla breve, io vado in finale, e incontro in finale uno che faceva culturismo, era alto 1,90, con due spalle e così, era di Dogana, si chiamava, ti ricordo ancora, perché... adesso mi scusca... di Schwarzenegger. No, ma era tipo questo, tipo... io gli ho fatto di mano, fa piano, fa piano, pensavo che... Io ero fuori, io ero molto fuori, allora gli ho fatto, dico, fa piano, ho due braccia così, perché sai, infatti, c'era un Messi, ma io in quel periodo ero molto fuori. allora ci mettiamo giù, ci saranno state 100 persone a vedersi attorno, no? Con tutto l'arbitro, c'era l'arbitro, tutto in regola, il tavolo, quello proprio... Come ho vede dopo, uno stallone. Sì, il tavolo, quello dove ti fetti, tieni, non puoi, poi ti ha detto, non puoi alzare, devi arrivare fino a un certo punto, perché c'è una gomma piuma alta così, alta così, sarà 4 centimetri, no? Devi far battere il pugno su questa gomma piuma. Insomma, ci mettiamo lì, io ho sentito che avrei vinto, ho sentito subito che avrei vinto, perché quando senti che ti prendi, se capisci se quell'altro è più forte, io dico, lo frego questo qui sicuro. Allora ci siamo messi lì, ma lui a un certo punto ha alzato, e io avevo vinto quasi, perché l'avevo già mandato giù, e abbiamo dovuto ricominciare, dico, adesso può anche darsi che mi viene anche a lui, ho pensato tra di me. Invece lui era più debole, l'ho vinto bene, ho vinto io, in capisci, hanno fatto l'ovazione, tanto c'erano tutti i miei lì, e perciò... No, ma c'erano anche tutti gli amici, tutti gli amici, dai Vittorio, Vittorio! È stata l'ovazione, insomma, è una bella soddisfazione, perciò... L'anno dopo vinse Roberto, dopo io ho smesso, dopo mi ha fregato mio figlio, io come mi ha fregato Roberto, mi hai smesso, ho detto, allora lo dico, sovra di va, prendiamo una macchina a noi, io mi ero fatto fare la carta, quelle carte, dalla... La valente internazionale. Sì, quelle internazionali, così non abbiamo avuto neanche difficoltà a prenderla mai. E fa, dice, la macchina dovete andare a prendere, però il settore, e c'è andato il settore, allora io e un altro ragazzo, dico, andiamo in due, perché gli altri vengono col pullman, intanto prendevano le valise, eccetera, stavano arrivando piano piano la spicciolata, e dico, vi aspettiamo l'altra. Andiamo, arriviamo, arriviamo nel settore C, dico, adesso aspettiamo tutti, poi entriamo e prendiamo la macchina. Eravamo su una strada normale, poca luce, e eravamo lì con le valigie, due valigie, le avevamo messe a due metri da noi, le avevamo fermate per terra, no? Dopo qualche minuto, arriva la macchina, passava piano, cioè quelle corvette, americane, lunghe, grosse, dentro c'erano due negri, che ci guardavano, ci hanno guardato, si sono passati davanti, come si passano davanti, dall'altra parte opposta della strada, si ferma una macchina, si ferma una macchina, parcheggia, scende una signorina, con una borsetta. Allora, la macchina, intanto, e noi chiacchierevamo, però guardevamo, così, chiacchieri in mezzo alla strada, poi ti giri, guardi, no? Abbiamo visto questa macchina, dei due negri, che passava, fa più avanti, 50-100 metri più avanti, fa la conversione, torna oltre. Nel frattempo, arriva questa ragazza, scende dalla macchina, si mette in attesa, la macchina cosa fa? Passa davanti, lei praticamente era di fronte a noi, questa ragazza, no? La macchina passa davanti, accelera, gli prende la borsetta, gli fa lo scippo, praticamente, gli fa la macchina, alla ragazza, lo scippo alla borsetta. Nel frattempo, sempre, nel frattempo, è tutto successo nel giro di 5-4-5 secondi, nel frattempo, arriva una macchina, blocca davanti a noi, praticamente, scende uno, tira fuori la pistola, e comincia a sparare, pum pum, a questo che gli aveva fatto il mio scippo, a questi due, che nel frattempo erano... A quello che era un poliziotto, uno così? Era l'amico della ragazza, la doveva andare con questo, hai capito? comincia a fare pum pum pum, gli ha dato 4-5, ma non le ha prendi, capito? Dopo, l'abbiamo raccontato, nel frattempo, arriva, è successo tutto in un attimo, nel frattempo, arriva il bus dell'aeroporto, con i ragazzi, e le ragazze, e gliel'abbiamo raccontato, allora, la prima cosa che hanno detto, a Miami, hanno sparato, hanno telefonato, hanno telefonato, allora non c'erano i telefonini, però, la prima cosa, davvero? Chi ha segnato? Chi è? Strasse! Chi è?